Cibo sintetico. Coldiretti ha da tempo intrapreso una campagna in difesa della genuinità dei prodotti locali e della filiera agroalimentare, ma all'orizzonte le sagome di bistecche sintetiche e cibi preparati in laboratorio si fanno via via più definite. Noi abbiamo chiesto ai bassanesi cosa ne pensano. Per me non esiste, non è neanche giusto poi. Contrari dunque anche solo all'acquisto? Esattamente. Certamente sì. Già quello normale è pieno di prodotti che ci fanno male. Quindi si difende la genuinità dei prodotti? Esattivamente sì. Al contrario, per carità, qua bisogna mangiare sano se vogliamo mantenerci in forma. La vediamo in forma, la vediamo fare spesa al mercato, quindi un motivo in più per difendere la genuinità dei nostri prodotti. Tutta roba genuina. Chilometro zero è naturale? Esattamente. Favorevole o contrario al cibo sintetico? Contrario. Sono pugliese quindi diciamo tradizione pugliese. Il cibo è come quello che fa la mamma, non come quello che si vende così. Contrario, mi spiazza. Come mai? Per il sapore, per il gusto, perché è fresco, appena raccolto, tutto questo. Cibo sintetico no. Cibo sintetico, favorevole o contraria? Contraria. Come mai? Perché io amo le cose naturali. Sono molto ecologica e mi piace mangiare bene, a chilometro zero e anche se poi nella vita non lo sai può succederti di tutto. Cibo sintetico. Cibo sintetico. Grazie.